Allora, l'acquisto è limitato a due per modello, quindi una persona può comprare due 5S, due 5C e massimo, ok? Quindi dieci persone per volta e due modelli, due tipi per modello. Ok, per tutti, l'acquisto è aperto pronto, quindi dovrete essere dispacciato da un gruppo di 10 persone per andare da qui, a un altro paio, dove dovete aspettare e vi farvi un ticket per l'iPhone. L'iPhone sarà 2,5S per person e 2,5C per person, ok? Ok!